Ma mi porti un bicchiere di latte? Non puoi prenderlo da solo? No, non fa niente, andrò avanti senza liquidi E va bene, va bene, ti prenderò il latte Grazie Nessuno vuole qualcos'altro visto che sono in piedi? No Marge, portami una birra Eh, mamma? Che c'è? Eh, c'è un capello nella zuppa, però ci mangio intorno Che genere di capello è? Beh, è blu, lungo quasi due metri È un capello mio Ah, scusatemi Pare che vostra madre sia turbata da qualche cosa Sarà meglio che vada a parlare con lei durante la pubblicità Ed ora un bel applauso per un grande americano, l'ex presidente Gerald Ford Grazie, Closty, per avermi invitato Ma tutti i presidenti bravi si sono rifiutati Oh, bene, vorrei parlare di un argomento che mi sta veramente molto a cuore I Boy Scout d'America Hanno plasmato uomini da oltre un centinaio di anni E... ma cosa stai... Come stassa moglie Nancy? Petti È uguale Alla... Alla...